38. «Questo è il nostro potere», disse il colonnello Macklin, sollevando la 45 automatica che aveva preso al giovane californiano morto. «No», rispose Roland Kroninger, «questo è il nostro potere», e sollevò una delle bottigliette di pillole della riserva di droghe di Sheila Fontana. «Ehi!» Sheila tentò di prenderlo, ma Roland la allontanò dalla sua portata. «Quella è la mia riserva! Non puoi…» «Seduta!», le disse Macklin. Lei esitò e lui si appoggiò la pistola sul ginocchio. «Seduta», ripetè. Lei imprecò sottovoce e si sedette nella buca sudicia, mentre il ragazzino continuava a spiegare all'eroe di guerra con una mano sola come le pillole e la cocaina fossero più potenti di quanto qualsiasi pistola potesse mai essere. L'alba arrivò con un cielo giallo canceroso e aghi di pioggia. Una donna con i capelli neri, un uomo con una mano nascosta nel cappotto sporco e un ragazzo con degli occhialini camminarono nel paesaggio di cadaveri in decomposizione e rottami di veicoli. Sheila Fontana teneva in alto un paio di mutandine bianche come bandiera di pace e, vicino a lei, Macklin le teneva la 45 puntata direttamente al fondo della schiena. Roland Croninger, alla retroguardia, portava lo zaino di Sheila. Ricordava la sensazione che i capelli della donna gli avevano dato quando li aveva tenuti in mano e come il suo corpo si era mosso come un giro sulle montagne russe. Voleva fare ancora sesso e avrebbe odiato che lei ora facesse una mossa falsa, facendosi giustiziare. Perché dopo tutto erano stati assolutamente cavallereschi con lei la notte prima. L'avevano salvata dalla marmaglia, le avevano dato da mangiare dei biscotti per cani con cui si stavano nutriendo di recente recuperati dal relitto di un camper dopo aver consumato la carcassa del cane tempo prima e, dopo aver finito con lei, le avevano offerto un posto in cui riposare. Raggiunsero il confine del territorio delle verruche di terra e iniziarono a camminare allo scoperto. Davanti a loro c'erano le tende, le auto e i ripari di cartone della gente privilegiata che viveva sulla sponda del lago. Erano arrivati circa a metà del percorso, diretti verso una malmessa roulotte Airstream al centro dell'accampamento, quando sentirono il grido d'allarme. «Verruche di terra in arrivo! Svegliatevi! Verruche di terra in arrivo!» «Continua a camminare», disse McLean a Sheila, quando la donna esitò. «E continua anche ad agitare quelle mutandine». La gente iniziò a uscire dai ripari. In realtà erano laceri e sporchi, esattamente come le verrucche di terra. Ma avevano armi da fuoco e scorte di cibo in scatola e acqua in bottiglia, e molti di essi avevano evitato ustioni gravi. La maggior parte delle verruche di terra, d'altro canto, era gravemente ustionata, soffriva di malattie contagiose o era pazza. McLean capiva i principi dell'equilibrio del potere. Si accentrava dentro la roulotte Airstream, una dimora scintillante in mezzo agli altri tuguri. «Tornate indietro, stronzi!» gridò un uomo dall'ingresso di una tenda, prendendoli di mira con un fucile a ripetizione. «Tornate indietro!» gridò una donna, e qualcuno lanciò un barattolo vuoto che colpì il terreno a poca distanza davanti a Sheila. Lei si fermò, e Macklin la fece avanzare con una spinta dell'automatica. Continua a camminare, e sorridi. «Andate via, sudici!» gridò un secondo uomo, che indossava i resti di un uniforme dell'aviazione e un cappotto macchiato di sangue secco. Aveva una pistola, e si avvicinò fino a sei metri da loro. «Ladri di tombe!» gridò. «Voi, sporchi, infestati, ripidocchi, pagani!» Macklin non era preoccupato da lui. Era un uomo giovane, forse sui venticinque, e i suoi occhi continuavano a spostarsi su Sheila Fontana. Non avrebbe fatto nulla. Altre persone si avvicinarono a loro, gridando e strillando, brandendo pistole, fucili, coltelli e addirittura una baionetta. Furono lanciate pietre, bottiglie e barattoli. E anche se arrivarono pericolosamente vicini, nessuno di loro fu colpito. «Non portate qui le vostre malattie!» urlò un uomo di mezza età, inimpermeabile marrone e cappello di lana. Aveva in mano un'ascia. «Vi ucciderò se fate un altro maledetto passo!» Macklin non era preoccupato nemmeno da lui. Gli uomini erano confusi dalla presenza di Sheila Fontana, ma lui riconobbe il desiderio sui loro volti, mentre si affollavano intorno a loro gridando minacce. Vide una giovane donna magra con stopposi capelli castani, il corpo avvolto in un impermeabile giallo e gli occhi incavati, fissati su Sheila con intento omicida. Aveva in mano un coltello da macellaio e toccava la lama con il dito. Macklin sentì una fitta di preoccupazione nei suoi confronti e guidò Sheila lontano da lei. Un barattolo vuoto lo colpì su un lato della testa e rimbalzò. Qualcuno si avvicinò abbastanza per sputare a Roland. «Continua a camminare, continua a camminare», disse Macklin con calma, con gli occhi succhiusi, che si spostavano di qua e di là. Roland sentì urla e risate di scherno dietro di loro e guardò oltre la spalla. Nei terreni delle verruche di terra, trenta o quaranta di esse erano strisciate fuori dalle loro buche e stavano salpando su e giù, strepitando come animali in attesa di un massacro. Macklin sentì l'odore dell'acqua salata. Davanti a lui, nella pioggia nebbiosa e al di là dell'accampamento, il grande lago salato si estendeva fino all'orizzonte. Aveva un odore di antisettico, come i corridoi d'ospedale. Il moncherino del polso di Macklin bruciava e trassudava per l'infezione e lui bramava immergerlo nell'acqua curativa per battezzarsi nell'agonia purificatrice. Un robusto uomo barbuto dai capelli rossi, con una giacca di pelle, pantaloni di tela e una benda incollata alla fronte, si fermò davanti a Sheila. Puntò un fucile a doppia canna alla testa di Macklin. «Non andrete oltre!» Sheila si fermò con gli occhi spalancati. Gli agitò davanti al volto le mutandine. «Ehi, non sparare! Non vogliamo problemi!» «Non sparerà», disse Macklin rilassato, sorridendo all'uomo barbuto. «Vedi, amico mio, ho una pistola puntata alla schiena della signora. Se mi fai saltare la testa e se uno qualsiasi di voi stronzi idioti spara a me o al ragazzo, il mio dito si contrarrà sul grilletto e le spezzerà la spina dorsale. «Guardatela, amici! Guardate! Nemmeno un'ustione su di lei! Da nessuna parte! Oh sì, riempitevi gli occhi, ma non toccate! Non è splendida?» Sheila ebbe l'impulso di tirare sulla maglietta e mostrare a quei guardoni inebetiti le tette. Se l'eroe di guerra avesse mai provato a fare il pappone, avrebbe fatto successo. Ma questa intera esperienza era così irreale, era quasi come essere fatti di una pillola di LSD, e si ritrovò a sorridere, pronta a scoppiare a ridere. Gli uomini sudici che la circondavano erano capaci solo di fissarla, e alle loro spalle c'era un gruppo di donne secche e sporche, che la guardava con odio assoluto. Macklin vide che erano a quindici metri dalla roulotte Airstream. «Vogliamo vedere l'uomo grasso», disse al tizio con la barba. «Certo!» L'altro uomo non aveva ancora abbassato il fucile. La sua bocca si contorsi in modo sarcastico. «Lui incontra continuamente verrucche di terra. Offre loro champagne e caviale!» Fece una risata nasale. «Chi cazzo credi di essere, signore?» «Mi chiamo colonnello James B. Macklin. Ho combattuto in Vietnam come pilota. Sono stato abbattuto e ho passato un anno in un buco che fa sembrare questo posto in Ritz Carlton. Sono un militare. Bastardo idiota!» Il volto di Macklin stava arrossendo. «Disciplina e controllo», disse a se stesso. «Disciplina e controllo fanno l'uomo». Fece un paio di respiri profondi. Intorno a lui diverse persone lo schernirono, e lo sputo di qualcuno gli finì sulla guancia destra. «Vogliamo vedere l'uomo grasso. È lui il capo qui, no? È lui quello che ha più cibo e armi, giusto?» «Cacciateli via!» gridò una donna tarchiata e con i capelli ricci, brandendo un lungo forchettone da barbecue. «Non vogliamo le loro maledette malattie!» Roland sentì armare una pistola e capì che qualcuno gli stava tenendo un'arma proprio dietro alla testa. Trasalì, ma poi si voltò lentamente con un sorriso rigido. Un ragazzo biondo, più o meno della sua età e con addosso una giacca sformata, gli stava puntando una 38 proprio in mezzo agli occhi. «Puzzi», disse il ragazzo biondo, con gli spenti occhi castani che lo sfidavano a fare una mossa. Roland restò immobile, con il cuore che batteva all'impazzata. «Ho detto che vogliamo vedere l'uomo grasso», ripete Macklin. «Ci porti da lui o che?» L'uomo barbuto fece una risata rauca. «Hai molto fegato per essere una verruca di terra!» I suoi occhi scattarono verso Sheila Fontana, si fermarono sul suo corpo e sui suoi seni e poi tornarono alla pistola in mano a Macklin. Roland sollevò lentamente la mano davanti al volto del ragazzo biondo, poi con la stessa lentezza, la abbassò e la infilò nella tasca dei pantaloni. Il dito del ragazzo biondo era sul grilletto. La mano di Roland trovò quello che stava cercando e iniziò a tirarlo fuori. «Potete lasciare la donna e non vi uccideremo», disse l'uomo barbuto a Macklin. «Andatene e tornate nel vostro buco. Dimenticheremo che siete...» Una bottiglietta di plastica colpì il suolo davanti al suo piede sinistro. «Avanti», gli disse Roland. «Raccogliela. Fate una sniffata». L'uomo esitò e guardò gli altri nei dintorni, che stavano ancora gridando, schernendo e mangiando viva Sheila Fontana con gli occhi. Poi si abbassò su un ginocchio. Raccolse la bottiglietta che Roland aveva lanciato, l'apri e la odorò. «Che diavolo! Vuole che lo uccida, signor Lori?» chiese il ragazzo biondo speranzoso. «No! Metti giù quella dannata pistola!» Lori aspirò di nuovo l'odore della bottiglietta e i suoi grandi occhi azzurri iniziarono a lacrimare. «Metti giù la pistola!» abbaiò e il ragazzo ubbidì con riluttanza. «Ha intenzione di portarci dall'uomo grasso?» chiese Macklin. «Credo che piacerebbe anche a lui una sniffata. Tu che dici?» «Da dove avete preso questa merda?» «L'uomo grasso. Adesso». Lori richiuse il contenitore. Fece girare lo sguardo sugli altri, guardò verso la roulotte Airstream e fece una pausa tentando di prendere una decisione. sbatté le palpebre e Roland si rese conto che l'uomo non aveva esattamente un computer tra le orecchie. «Va bene», fece un cenno con il fucile. «Muovete il culo!» «Uccidili!» strillò la donna tarchiata. «Non lasciare che ci contaminino!» «Adesso ascoltate, tutti quanti!» Lori tenne il fucile al fianco e tenne la bottiglietta di plastica stretta nell'altra mano. «Non sono ustionati o altro! Voglio dire, sono solo sporchi! Non sono come le altre verruche di terra! Mi assumo la responsabilità per loro!» «Non lasciarli entrare!» gridò un'altra donna. «Questo non è il loro posto!» «Muoviti!» disse Lori a Macklin. «Prova a fare che scherzetto! E giuro su Dio che sarei un figlio di puttana senza testa, capito?» Macklin non rispose. Spinse avanti Sheila e Roland lo seguì verso la grossa roulotte argentata. Un branco di gente si mise alle loro calcagna, incluso il ragazzo con la 38 e il grilletto facile. Lori ordinò loro di fermarsi quando arrivarono a tre metri dalla roulotte. Salì su alcuni mattoni che erano stati collocati per fare da gradini fino alla porta della roulotte e bussò con il calcio del fucile. Dall'interno una voce alta e sottile chiese «Chi è? Sono Lori, signor Kempka! Ho qualcosa che deve vedere!» Per qualche istante non ci fu risposta. Poi l'intera roulotte sembrò tremare e inclinarsi di qualche grado quando Kempka, l'uomo grasso che comandava l'accampamento, come Macklin aveva sentito dire a un'altra verruca di terra, si avvicinò alla porta. Scattarono due chiavistelli. La porta si aprì, ma Macklin non riuscì a vedere chi l'aveva aperta. Lori gli disse di non muoversi da dove si trovava e poi entrò. La porta si chiuse. Non appena fu sparito, le urla e gli scherni diventarono più forti e di nuovo iniziarono a volare bottiglie e barattoli. «Tu sei pazzo, eroe di guerra», disse Sheila. «Non uscirai mai vivo da qui. Se crepiamo noi, crepi anche tu». Lei si voltò verso di lui, ignorando la pistola, e i suoi occhi scintillavano di rabbia. «Allora uccidimi, eroe di guerra. Non appena premerai quel grilletto, questi bastardi eccitati ti faranno a pezzi. E chi ha detto che puoi usare la mia roba, eh? Quella che stai gettando in giro è cocaina della migliore qualità». Macklin fece un piccolo sorriso. «Ti piace correre rischi, vero?» Non attese una risposta perché la conosceva già. «Vuoi cibo e acqua? Vuoi dormire con un tetto sulla testa e non temere che qualcuno ti uccida nella notte? Vuoi poterti lavare e non accovacciarti nella tua stessa merda?» «Bele voglio anch'io quelle cose e anche Roland. Il nostro posto non è là fuori con le verruca di terra. Il nostro posto è qui e questo è un rischio che dobbiamo correre». Lei scosse la testa e, anche se era furiosa perché avrebbe perso la sua riserva, sapeva che lui aveva ragione. Il ragazzo era stato molto astuto a suggerirlo. «Tu sei pazzo». «Vedremo». La porta della roulotte si aprì e Lori mise fuori la testa. «Va bene, entrate, ma prima mi dai la pistola». «Non se ne parla, la pistola resta con me». «Hai sentito cosa ho detto?» «L'ho sentito. La pistola resta con me». Lori guardò oltre la sua spalla, verso l'uomo dentro la roulotte. Poi disse «Va bene, entrate e fate in fretta». Salirono i gradini, entrarono e Lori chiuse la porta alle spalle di Roland, chiudendo fuori le urla della folla. Lori puntò il fucile alla testa di Macklin. Al tavolo sull'altro lato della roulotte c'era seduta una massa in forme che indossava una maglietta macchiata di cibo e una salopette. I suoi capelli erano tinti di arancione e sporgevano dal cranio in punte di tre centimetri e aveva una barba striata di colori alimentari rossi e verdi. La sua testa sembrava troppo piccola per il torace e per l'enorme pancia e aveva quattro menti. I suoi occhi erano dei minuscoli buchi neri in una faccia pallida e floscia. La roulotte era disseminata di casse di cibo in scatola, Coca-Cola e Pepsi in bottiglia, bottiglie d'acqua e un centinaio di confezioni da sei di Budweiser ammassate contro una parete. Alle sue spalle c'era un deposito di armi da fuoco, una rastrelliera di sette fucili, uno con mirino telescopico, una vecchia mitragliatrice Thompson, un bazooka e una varietà di pistole appese a dei ganci. Sul tavolo davanti a lui aveva versato un piccolo mucchietto di cocaina dalla bottiglietta di plastica e se ne stava strofinando un po' tra le dita carnose. A portata della sua mano destra c'era una Luger, con la canna puntata nella direzione dei suoi visitatori. Si portò un po' della cocaina alle narici e sniffò delicatamente, come se odorasse del profumo francese. «Avete dei nomi?» chiese con una voce quasi femminile. «Io mi chiamo Macklin, colonnello James B. Macklin, ex aviazione degli Stati Uniti. Loro sono Roland Kroninger e Sheila Fontana». Kempka raccolse un altro pizzico di cocaina e la lasciò ricadere. «Da dove arriva questa, colonnello Macklin?» «Dalla mia riserva», disse Sheila. Pensava di aver visto tutte le cose repellenti del mondo, ma anche nella bassa luce gialla delle due lampade che illuminavano la roulotte, riusciva astento a sopportare la vista dell'uomo grasso. Sembrava un fenomeno da baraccone e da ognuno dei suoi lobi lunghi e grassi pendevano orecchini tempestati di diamanti. «E questa è la dimensione di questa riserva?» «No», rispose Macklin. «Neanche lontanamente. C'è molta più cocaina e anche ogni genere di pillole». «Pillole», ripetè Kempka. I suoi occhi neri si diressero verso Macklin. «Che genere di pillole?» «Di ogni genere. LSD, PCP, antidolorifici, tranquillanti, stimolanti e calmanti». Sheila sbuffò. «Eroe di guerra, tu non sei un cazzo della roba buona, vero?» Fece un passo verso Kempka e l'uomo grasso appoggiò la mano sull'impugnatura della Luger. «Anfetamine, Pentobarbital, Angelo Blu, Benzedrina, Popper e Red Stinger. Tutta roba di alta qualità». «Ma davvero? Eri nel giro, ragazza?» «Sì, diciamo di sì». Si guardò intorno, nella roulotte ingombra e caotica. «Tu di cosa ti occupavi? Allevamento di maiali?» Kempka la fissò. Poi lentamente la sua pancia iniziò a oscillare, seguita dai suoi menti. La sua intera faccia si mosse come un piatto di gelatine e dalle labbra uscì una cuta risata femminile. Disse, con le guance che si arrossavano. «Allevamento di maiali!» Agitò una mano grassa verso Lori e anche lui fece una forzata risata nervosa. Quando smise di ridere, Kempka disse. «No, cara! Non era l'allevamento di maiali. Avevo un'armeria a Rancio, Cordova, appena est di Sacramento. Fortunatamente ho avuto il tempo di impacchettare un po' della mia merce e di filarmela prima che le bombe cadessero sulla Bay Area. Ho anche avuto la presenza di spirito di fare una visita a un piccolo negozio di alimentari mentre viaggiavo verso est. Il signor Lori era un commesso del mio negozio e abbiamo trovato un posto per nasconderci un po' nella Eldorado National Forest. La strada ci ha portati qui ed è iniziata ad arrivare altra gente. Presto avevamo una piccola comunità. La maggior parte delle persone è venuta per fare il bagno nel lago. Si dice che fare un bagno nell'acqua salata la vivi alle radiazioni e ti renda immune». Si strinse nelle spalle carnose. «Forse è così, forse no. In ogni caso diciamo che mi piace essere il re della montagna e il padrino. Se qualcuno non fa quello che dico lo esilio nella zona delle verruca di terra o lo uccido». Fece un'altra risatina con gli occhi scuri che scintillavano allegri. «Vedete, faccio io le leggi qui. Io, Freddy Kempka, della Kempka's Shooter Supermarket Incorporated. Oh, è davvero una grande festa!» «Buon per te», mormorò Sheila. «Sì, buon per me?» Si strofinò della cocaina tra le dita e la sniffò con entrambe le narici. «Però è una polverina potente, eh?» Si leccò le dita per ripulirle e poi guardò Roland Kroninger. «E tu che dovresti essere? Un cadetto spaziale?» Roland non rispose. «Ti farò saltare quel culo grasso», pensò. Kempka fece una risatina. «Come siete finiti nella zona delle verruca di terra, colonnello?» Macklin gli raccontò l'intera storia, come Earth House era crollata e come lui e il ragazzo erano usciti. Non menzionò il soldato ombra perché sapeva che non gli piaceva che si parlasse di lui con gli estranei. «Ah, capisco», disse Kempka quando finì. «Beh, come dicono, i piani migliori spesso finiscono in merda, vero? Ora immagino che siate venuti qui e abbiate portato questa polverina potente per un motivo. Di che si tratta?» «Vogliamo trasferirci nell'accampamento. Vogliamo una tenda e vogliamo delle scorte di cibo». «Le uniche tende che abbiamo le ha portate la gente sulle proprie spalle. Sono tutte piene. Non c'è spazio libero nella locanda, colonnello». «Allora liberatelo. Noi otteniamo una tenda e del cibo e tu ricevi una fornitura settimanale di cocaina e pillole. Chiamalo un affitto». «E che me ne farei delle droghe, signore?» Roland rise e Kempka lo guardò con occhi accigliati. «Andiamo, signore!» Il ragazzo si fece avanti. «Sai che puoi vendere quelle droghe a qualsiasi prezzo. Puoi comprare le menti della gente con quella roba, perché tutti pagheranno per dimenticare. Pagheranno qualsiasi cosa chiederai. Cibo, armi, benzina, qualsiasi cosa». «Ho già tutte queste cose?» «Forse sì», concordò Roland. «Ma sei sicuro di averne abbastanza? E che succederebbe se domani arrivasse qualcuno nell'accampamento con una roulotte più grande? E se avessero più armi di te? E se fossero più forti e più cattivi? Quella gente là fuori?» Annui verso la porta. «Non aspetta altro che qualcuno di abbastanza forte dica loro cosa fare. Vogliono essere comandati. Non vogliono essere costretti a pensare con la propria testa. E qui c'è un modo per metterti in tasca le loro menti», indicò la montagnola bianca. Kempka e Roland si fissarono l'un l'altro per qualche silenzioso istante e il ragazzo ebbe la sensazione di guardare una lumaca gigantesca. Gli occhi neri di Kempka fissarono intensamente quelli del ragazzo e alla fine un piccolo sorriso tremolò sulla sua bocca bagnata. «Queste droghe», disse, «mi farebbero avere un giovane e dolce cadetto spaziale?» Roland non seppe cosa dire. Era sbalordito e glielo si doveva leggere in faccia, perché Kempka sbuffò e rise. Quando smise di ridere, l'uomo grasso disse a Macklin, «Che cosa mi impedisce di uccidervi in questo istante e di prendermi le vostre preziose droghe, colonnello?» «Una cosa molto semplice. Le droghe sono sotterrate nella zona delle verrucche di terra. Roland è l'unico che sappia dove si trovano. Lui andrà là fuori e ti porterà una razione una volta a settimana, ma se qualcuno lo segue o tenta di interferire, gli farò saltare il cervello». Kempka tamburellò sul tavolo con le dita, spostando lo sguardo dal mucchio di cocaina a Macklin e Roland, ignorando sdegnosamente la ragazza. E di nuovo alla droga. «Potrebbe servirci quella roba, signor Kempka», intervenne Lori. «Ieri sono arrivati dei tizi con una stufa a gas che di sicuro riscalderebbe la roulotte. Un altro tipo ha del whisky che si è portato appresso in un sacco di juta. Ci serviranno anche pneumatici per il furgone. Avrei già preso la stufa e le bottiglie di whisky, ma i nuovi arrivati sono tutti armati fino ai denti. Potrebbe essere una buona idea anche scambiare le droghe con le loro armi». «Deciderò io cosa è bene o meno». La faccia di Kempka si riempì di pieghe quando si accigliò pensieroso. Fece un lungo respiro e lo espirò come un mantice. «Trova loro una tenda, vicino alla roulotte, e spargi la voce che se qualcuno li tocca ne risponderà a Freddy Kempka». Fece un gran sorriso a Macklin. «Colonnello, credo che tu e i tuoi amici sarete delle aggiunte molto interessanti alla nostra piccola famiglia. Immagino che potremmo chiamarvi farmacisti, eh?» «Immagino di sì». Macklin attese fino a quando Lori non ebbe abbassato il fucile e poi abbassò l'automatica a sua volta. «Ecco fatto. Adesso siamo tutti felici, vero?» E i suoi occhi neri e rapaci si fermarono su Roland Kroninger. Lori li condusse a una piccola tenda piantata a circa 30 metri dalla roulotte. Era occupata da un giovane uomo e una donna che teneva in braccio neonato con le gambe fasciate. Lori piantò il fucile nella faccia dell'uomo e disse «Fuori!». L'uomo, teso e demaciato, con gli occhi vuoti per la stanchezza, infilò la mano sotto il suo sacco a pelo. Stava per tirare fuori un coltello da caccia, ma Lori fece un passo avanti e schiacciò il suo polso sottile sotto lo stivale. Vi appoggiò tutto il suo peso e Roland osservò i suoi occhi mentre spezzava le ossa dell'uomo. Erano vuoti e non vi vide nessuna emozione nemmeno quando iniziò il rumore di ossa rotte. Lori stava semplicemente facendo quello che gli era stato ordinato. Il neonato iniziò a piangere e la donna stava urlando, ma l'uomo si limitò a tenersi il polso rotto e fissò Lori stordito. «Fuori!». Lori appoggiò la canna del fucile alla testa dell'uomo. «Sei sordo, stupido bastardo!». L'uomo e la donna si alzarono a fatica. Lui si fermò per raccogliere i loro sacchi a pelo e gli zaini con la mano sana, ma Lori lo afferrò per la collottola e lo trascinò fuori, gettandolo a terra. La donna piangeva e si fece piccola accanto al marito. Si stava raccogliendo una folla di spettatori e la donna strillò «Animali! Sporchi animali! Questa è la nostra tenda! Appartiene a noi!». «Non più!». Lori indicò la zona delle verruche di terra con il fucile. «Iniziate a camminare!». «Non è giusto! Non è giusto!». S'inghiozzò la donna. Guardò implorante la gente che si stava radunando lì intorno. Anche Roland, Macklin e Sheila lo fecero e videro tutti la stessa cosa su quelle facce. Una curiosità impassibile e indifferente, come se stessero guardando una trasmissione televisiva violenta. Anche se qua e là c'erano leggere espressioni di disgusto e pietà, la maggior parte dei presenti era già traumatizzata al punto da essere priva di emozioni. «Aiutateci!» implorò la donna. «Per favore! Qualcuno ci aiuti!». Diverse persone avevano pistole, ma nessuno intervenne. Macklin capiva perché. Era la sopravvivenza del più adatto. Qui l'imperatore era Freddy Kempka e Lori era il suo luogotenente, probabilmente uno dei tanti che Kempka usava come occhi e orecchie. «Andatevene!» disse Lori alla coppia. La donna continuò a strillare e a piangere, ma alla fine l'uomo si alzò e, con gli occhi morti e spenti, iniziò ad arrancare lentamente verso la cupalanda di carcasse di automobili e cadaveri in decomposizione. L'espressione della donna si trasformò in odio. Si alzò con il neonato che piangeva in braccio e gridò alla folla «Succederà anche a voi! Vedrete! Prenderanno tutto quello che avete! Verranno e vi trascineranno fuori da…» Lori colpì con il calcio del fucile. Si abbatté sul cranio del neonato e la forza del colpo fu sufficiente a gettare la donna a terra. Il pianto del neonato si interruppe di colpo. La donna guardò il volto del bambino e fece un debole suono soffocato. Sheila Fontana non riusciva a credere a quello che aveva appena visto. Voleva voltarsi, ma la scena aveva una presa tenebrosa su di lei. Il suo stomaco si contorse per la repulsione e riusciva ancora a sentire il pianto del neonato che continuava a echeggiare nella sua mente. Si mise la mano sulla bocca e premette forte. Il giovane uomo, un cadavere con addosso dei vestiti, stava camminando sul terreno piatto, senza disturbarsi nemmeno di guardare indietro. Alla fine, con un rantolo tremante, la donna si alzò in piedi, con il neonato silenzioso stretto al petto. I suoi occhi orribili e incavati incontrarono quelle di Sheila e vi si soffermarono. Sheila si sentì come se la sua anima fosse stata bruciata completamente. Se solo il neonato avesse smesso di piangere, pensò. Se solo... La giovane madre si voltò e iniziò a seguire il marito nella nebbia. Gli spettatori si dispersero. Loris trofinò a terra il calcio del suo fucile e indicò la tenda. «Sembra che abbiamo appena trovato un posto libero, colonnello». «Dovevi farlo per forza», chiese Sheila. Dentro di sé stava tremando e si sentiva male, ma il suo volto non mostrò nulla di quello e i suoi occhi erano freddi e duri. «Di tanto in tanto dimenticano chi detta le regole. Allora, volete la tenda o no?» «La vogliamo», disse Macklin. «Ecco qua allora. Ci sono anche un paio di sacchi a pelo e del cibo dentro. Accogliente come casa, eh?» Macklin e Roland entrarono nella tenda. «E io dove dovrei vivere?», chiese Sheila a Lori. Lui sorrise. La esaminò dall'alto in basso. «Beh, io ho un sacco a pelo in più nella roulotte. Vedi, io dormo dal signor Kempka, ma non sono divertente. A lui piacciono i ragazzini e non potrebbe fregargliene di meno delle donne. Che ne dici?» Lei sentì il suo odore e non riusciva a decidere se fosse peggio il suo o quello dell'eroe di guerra. «Scordatelo», disse. «Resterò qua». «Come preferisci. Prima o poi ti avrò». Quando l'inferno gelerà, lui si leccò un dito e lo venne in alto per esporlo al vento. «Sta diventando piuttosto freddo, tesoro». Poi rise e si allontanò in direzione della roulotte. Sheila lo guardò andare. Si voltò in direzione della zona delle verruche di terra e vide i vaghi contorni della giovane coppia che si allontanava nella nebbia, entrando nell'ignoto che si trovava dall'altra parte. Pensava che quei due non avessero nemmeno una possibilità là fuori, ma forse già lo sapevano. «Il bambino sarebbe morto comunque», disse a se stessa. «Di sicuro, il bambino era già mezzo morto». Ma quell'incidente l'aveva sconvolta più di qualsiasi altra cosa nella sua vita e non poteva fare a meno di pensare che soltanto pochi minuti prima c'era una persona vivente, dove adesso c'era uno spettro. Ed era caduto a causa delle sue droghe, perché lei era arrivata lì con l'eroe di guerra e il teppista a fare i pezzi grossi. La giovane coppia scomparve nella pioggia grigia. Come diceva Rudy, devi coprirti il culo. E in quei tempi quelle erano parole secondo cui vivere. Sheila diede le spalle alla zona delle verruche di terra e si infilò nella tenda.